Grazie a tutti, benvenuti al CIMAT 2017. Sono Giuseppe Boatto e siamo Maschio Gaspardo. Qui, dietro a me, c'è la nuova pressura gigante, un cedro con condizioni di no-till. Questo cedro è specializzato per cedere in condizioni di no-till e ora vediamo le nuove strutture di queste macchine. Uno dei punti principali della nuova pressura gigante è il centro basso, specialmente designato per condizioni di no-till. Come potete vedere, il hopper è collocato molto vicino al no-till. Questo avrà un miglior bilancio anche in condizioni di no-till. Un nuovo hopper pressurizzato, designato per una miglior partecipazione di no-till e distribuzioni di no-till. La pressura gigante è disponibile con distributori di no-till. per una miglior partecipazione di no-till. Il hopper ha una capacità totale di 3.000 litri ed è diventato 70% di no-till e 30% di no-till. La forma di no-till ergonomica è ben studiata per un miglior distributore di no-till. con il hopper. Il design di un hopper pressurizzato permette di una pressura di alta pressura dentro del hopper. Il sistema hidraulico per il fan è stato disegnato per una potenza di più bassa. La macchina è già disponibile con la tecnologia ISOBUS. La macchina di distribuzione è collocata dall'interno del hopper per un miglior accesso. Il re-design è stato disegnato per una vita più lunga e grazie al sistema hidraulico centralizzato con l'accesso facile. Grazie al doppio spring ogni elemento può ottenere up to 200 kg di pressura per ogni elemento. Per ottenere una grande emergenza è molto importante che la macchina mantenga in contatto con l'accesso. Questo è per il motivo che la nostra pressura gigante ha un ruolo indipendente una grande emergenza di grado è molto importante questo è per il motivo che il nostro gigante è disponibile con un'attività lavorativa. La pressura gigante è disponibile da 4 a 6 metri lavorativa e si chiama 3 metri per l'accesso di transporte I benefici principali di queste macchine sono ridurre la operazione costa ridurre la erosione ridurre la erosione ridurre la polluzione ridurre la polluzione Maschio Gaspardo Gigante la tua soluzione per la farmazione di no-till